Pronto, pronto, amici, mi sentite? Ok, benissimo, non mi sente nessuno. Ragazzi, siamo tornati, riconoscete già il posto dove siamo? Siamo di nuovo in uno scherzo dei miei amici, dove io userò i cheat, gli aczozzerelloni di Minecraft. Vediamo se riuscirò a farglielo anche questa volta, secondo me si aspetteranno qualcosa di sospetto da parte mia, ma vediamo. Pronti? Partenza? Via, via! Ma via non nel senso che dovete scavare, aspettate! Siete delle persone orribili, allora prendete l'armatura, il piccone, ok? Guarda che non si apre. Bene, bravissimo, è perché povero Gico non può fare, aspetta, adesso ti do i poteri. Ecco, ora hai il potere di aprire le casse, che gran potere, eh? Allora, indossate l'armatura, ok? Oh, guarda, Gico, ho cambiato rischio. Bravissimi, avete tutti anche il vostro, come al solito, il vostro favoloso megadrill, ok? Che, ci ricordiamo, si chiama il trivellone, ok? E poi abbiamo tutti anche del cibo e un piccone, un piccone, uno, ok? Allora, adesso, io so che voi siete sfiduciati nei miei confronti, perché la scorsa volta... Abbastanza! Però vi invito a non dire niente, primo di tutti, perché lui non c'era, ok? Ah, ok. Invece a voi farò vedere, ok, mostrerò il mio piccone. Lo vedrà Stefano, controlla pure il mio piccone, se vuoi scambialo. Va bene, lo scambio, chiedi Dio. Va benissimo, benissimo, puoi fare anche così, ok? Così siamo tranquilli che nessuno sta essendo zozzone, ok? Va bene, ok. Allora, siete pronti? Come al solito, Cico, devi sapere che questa è una sfida a chi trova, questa volta, più smeraldi, quindi è ancora più rari. Allora dico io, perché tu gli smeraldi non si è interessato. Va benissimo, allora, ognuno deve partire a scavare verso la sua direzione. Aspetta, aspetta, facciamo la stessa cosa come l'altra volta, che tu dici quando possiamo usare il trivellone. Esatto, il trivellone si può usare solo in certi momenti e solo quando lo dico io, ok? Uffa, sempre. Però si può usare per uccidere i nemici, quello sì. Va bene. Perché troverai dei nemici, Cico, in giro, sappilo. Allora, siete pronti? Tre, due, uno, via. Via, via. Si può scavare. Allora, ricordatevi. Uno. Eh, beh, sì. E va bene. Uno. Bravi, bravi, scavate, sì, sì, sì. Siete veramente bravi, siete delle persone veramente bravi. Certo che si fa un po' buio, però, eh. Eh, quella lì è una fastidia, ogni volta non ci metti mai le torce. Sì, sarebbe buono avere la super mega ultra luminosità, percato che quella è una roba buona, eh. Poschiamo averla. La Night V, eh, no, non potete perché. Delle torce. Neanche. Eh, i trivelloni. Cosa c'è, di già? Ci sono già dei trivelloni. I trivelloni, i trivelloni. Porca me. Allora, quanti, quanti smeraldi avete trovato? Eh, sì. Sei smeraldi, eh. Va bene. Ok, bravi, bravi, bravi. Allora, vi chiederò io pian piano quanti ne state trovando. Eh, mamma mia. Ho trovato un bel paio di smeraldi, eh. Giusto due ne ho trovato. Ah, mi stanno saccagnando. Bravi, bravi, continuate a cercare. Eh, porca miseria. Chico, usa il trivellone, eh. Per uccidere i nemici col tasto destro li fai esplodere, hai capito? Sento qualcuno il trivella. Allora, si può trivellare, si può trivellare, si può trivellare. Per un pochino. Sì, sì, si può trivellare. Ok, piano che state essendo troppo rumorosi. Mi state distraendo nella mia missione di scavaggio, eh. Non va bene. Buoni. Aiuto. Buoni. Cosa? Conna, sei tornata? Ci sei? Eh, mi dovrei cadere giù, ma morirò. Eh, ti devi arrangiare, mia cara. Eh, scusa, eh. Eh, sì, vorrei, però sai, maia. Brava. Complimenti. E capisci. Ma vabbè, senti, dai, ti aiuto io. Mi fai tenerezza, ok? Grazie. Vai a recuperato. Oh, basta, trivello! Oh, basta, è tiglio. Ma che cazzo è stato? E mi saccagliano. Allora, no, no, no. Allora, il trivellone, dovete sapere, si può usare per due cose, ok? Io recupero un po' di trivellaggio perché non avevo trivellato. Leon! Basta però, ma fai schifo, ma scusa! Ostri! Anna! Ma non ho più le mie cose! Allora, fermi tutti, fermi, stop! Ho detto fermi! Scusa! Allora, Anna, dove sei? Dove sei? Sono rimorta. Oh, ma fai schifo! E non è colpa mia! Andiamo a recuperare le tue cose, sono di qui. Eh, ma, cioè, ma dimmi te, ma può essere una sfida dove devi aiutare qualcuno? Cioè, un tuo nemico lo devi aiutare. Dove sei? Mi sono? E le mie cose erano qui da qualche parte. Ecco, è pieno di mostri e trivelloni, porca miseria. Attenta! Sei un disastro, Anna, ma porca miseria! Non è colpa mia! Ma comunque non c'è nulla, qua ci rischio solo di morire io, ma non c'è più niente delle tue cose. Scusa, come faccio? È pieno di zombie e trivelloni! È pieno di trivelloni! Oh mio Dio! Ah, ce ne sono ancora! Anna, mi hai fatto venire in un'altra... Ecco la tua roba! L'ho trovata! L'ho trovata! Vieni qui, è lì la tua roba. Sbrigati, prendila! E come faccio? Portami giù! Porca miseria, ti sto portando, ti trivello io! Prendi la roba! Oh, ma mi serve la mano! Eh, mi sa, c'è anche il piccone, Anna, di qua. Vieni, vieni qui! Il piccone! Non ci stavo per morire io! Eh, ci sono! Oh, porca miseria, questa sfida non sa da fare, raga! Ferma, Anna, ferma, ok? Ferma! Sì! No, ti ho portato io da me! E adesso? E adesso scendi giù! Quanti ne hai? 22! No, dai! Ma come 22? Io non so! Io non so! Fermo, vieni qui! Quanti ne hai? Io ho 22! Ma lei, ma questa città! Cioè, toalentate! Boni! Non città! Non valeva, noi abbiamo detto di fermarci! Abbiamo detto di fermarci! Non è vero, ho fermato! Non è vero, consegnali tutti! Non ci crediamo! No, la metà! La metà, la metà, la metà, la metà! Ma chi li lo consegna? Li bruciamo, li bruciamo! Ok! Non a nessuno! Allora, facciamo un buco qua, guarda! Ok! Li butti dentro, dove sono? Buttati, sono 10 quelli! Non è... E' uno! E' uno! Sono due ora! Schifo, vergogna! Uffa, va bene! Guarda, sì, dai, va bene! Allora, nessuno va da lì! Ok? Va bene! Ok! Andiamo, andiamo! Vai via! Eh, ti vedo! Ti vedo, ti vedo, trivellone! Dove ne vado? Ti vedo, sai! Ora rimango a controllare! Che poi nessuno di voi mi ha chiesto quanti ne ho trovato io, ma io ne ho trovato sette! Quanti ne hai? Sette! Ehi, 11 e 11! Ah, porca miseria! Cavolo, mi stai fregando! Quindi Cicco ne ha più di me, giusto? Va bene! E ora si esce! Allora, il trivellone non vale per il momento, ok? Mi raccomando! Ma io ho sentito trivellonare! Per i mostri! Solo per i mostri! Solo per i mostri! Ok? Solo per i mostri! Mi raccomando, non voglio dover punire qualcuno di voi sequestrandogli i Smeraldi! I trivelloni Smeraldi, ok? Mi raccomando! Ok! Siate onesti, ok? Va bene! Ah, trivellone! E Anna smettila di morire che hai creato un disastro da sola, ok? Va bene! Degli altri Smeraldi! Il nostro Lion ha avuto una sfilza fortunata di tesoro! Oh, Creeper! Bravo! Trova i Creeper! Trova i Creeper! Io ti informo! Vedi lo stesso! Sì, sì, bravo, bravo! Io ti informo che ho trovato, sono arrivato, a un totale di ben 14 Smeraldi! Tu ci fai? Eh, 12! 12? E quindi sei stato superassuperato, eh! Uffa! Invece, a nina nostra, quanti Smeraldi hai tu? Bene, 8! 8! Via al trivellonamento, finché non dico basta! Sì, sì, sì! Un po' di trivellonamento, bravi, bravi, trivellonate adesso! Ma sì, ma sì, trivellonate, real good, bravi così, trivellonate! Eh, altri Smeraldi, sto arrivando a 16! 16 Smeraldi per Lion, eh! Eh, io ti batto! Come? Come mi batti? Eh, no, non è vero! Quanti ne hai, Steph? 25! Come 25? Di nuovo! No, non va, non va! Non va! La sfiliera è troppo ricca! Ma Stephano sta cittando, scusa, ma come pu... Ma non è che mi puoi fare il controllo? Ma tu sarai il piccone che mi hai dato te, capito? Eh, va bene!